Mario, secondo te la cacca di un canarino quanto pesa? 2 grammi e 500 E di una pecora? 3 chili e 8 E di un cavallo? 4 chili e 620 E una vacca? 8 chili e mezzo E la Capitella dell'Italia qual è? Non me la ricordo Ne capisci solo in merda tu